L'Istituto Mondino ha una storia lunga a 150 anni, che dall'Italia postunitaria si sviluppa fino ai giorni nostri sotto la guida di figure illustri della neuropsichiatria italiana e che nel 1973 frutta il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Oggi la Fondazione Mondino, che dal 2003 opera nel cuore della cittadella scientifica alle porte di Pavia, è una realtà all'avanguardia nella ricerca clinica e sperimentale delle neuroscienze applicate alle malattie del sistema nervoso. Rigore scientifico e innovazione tecnologica accompagnano ogni giorno le attività di ricerca per lo studio, la prevenzione e la cura di malattie di interesse neurologico e neuropsichiatrico anche infantile, con effetti positivi in ricaduta per la qualità dell'assistenza prestata al paziente. Oltre 140 posti letto per migliaia di ricoveri ogni anno, più di 300 tra dipendenti, collaboratori e ricercatori, decine di ambulatori. Bastano queste cifre a fotografare la realtà del Mondino oggi. E grazie alla collaborazione, sempre più stretta con l'Università di Pavia, sono centinaia ai giovani iscritti ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione che quotidianamente frequentano le aule didattiche e la prestigiosa biblioteca multimediale. Ma da sempre il vero fiore all'occhiello è l'attività di ricerca scientifica che da anni vede il Mondino tra le più accreditate realtà internazionali con una produzione scientifica di altissimo livello.